Ragazzi come va? Non serve dirvi che le cose vanno male, le cose vanno più che male. Abbiamo una crisi, la gente non ha un lavoro e chi ce l'ha vive con il terrore di perderlo. Il potere d'acquisto della moneta è pari a zero, le banche stanno fallendo, i banconisti vivono con il fucile sotto il banco e modestamente pure io mi sono attrezzato. Magari non ti farò male ma se ti becco nell'occhio almeno approfitto del momento. I criminali scorrazzano liberamente per le strade e nessuno sa che cosa fare e non se ne vede una fine. Sappiamo che l'aria è irrespirabile, il mangiare è immangiabile. Io resto a casa, io per la pace, io butto la plastica. Siamo seduti di fronte al nostro telecronista locale, il quale ci annuncia oggi ci sono stati 15 omicidi, un ragazzo è entrato nella scuola, ne ha fatti fuori 20, ci sono stati 63 reati per violenza. La Sampdoria vince contro il Milan, il Milan vince contro il Torino, la Ferrari è in pole position, la McLaren correva. sappiamo che le cose vanno male, vanno più che male, è la follia.